Con questo nuovo video vediamo come compilare alcune sezioni per la domanda di partecipazione al concorso ordinario. Facciamo per esempio la domanda di partecipazione al concorso ordinario della scuola secondaria di primo e secondo grado. Una volta entrati nell'area di presentazione della domanda, all'inizio avete una sezione sull'informativa dove troverete le indicazioni sulla compilazione e poi l'inoltro della domanda. E' anche specificato in questa parte, in questa sezione, che il candidato alla partecipazione alla domanda di concorso ordinario della scuola secondaria di secondo grado, di primo e secondo grado, potrà scegliere una classe di concorso per la secondaria di primo grado e un'altra classe di concorso per la secondaria di secondo grado. Inoltre potrà, se specializzato al sostegno, dunque se possiede specializzazione sul sostegno, partecipare anche per i posti di sostegno sia del primo grado e sia del secondo grado. Chiaramente dovrà fare un versamento nel caso dovesse partecipare a due classi di concorso, una di primo grado, una di secondo grado e relativi posti anche di sostegno oltre che i posti comuni, a un versamento di 40 euro. Andiamo a vedere come si sceglie la regione. Facendo avanti dopo l'informativa, vedete, viene proprio la sezione scegli regione. E' molto facile scegliere la regione perché c'è l'Italia suddivisa proprio in regioni. Si può scendere il Piemonte, ma quando si illumina in verde la selezione della regione è stata fatta. Tant'è vero che se si sceglie il Piemonte e l'è selezionato in verde, troverete in basso scritto che la regione scelta è il Piemonte. Oppure se volete scegliere, ad esempio, la Toscana, basta cliccare sulla Toscana e troverete in basso scritto Toscana. Nel caso mio, io voglio scegliere la Calabria. Scego la Calabria e dunque si illumina il tasto della Calabria e la scelta della regione è la Calabria. Per cui poi si può fare avanti e si va su Inserisci i tuoi dati. Qui si inserisce in questa nuova sezione tutti i dati anagrafici del partecipante alla domanda di concorso ordinario. Dopo aver compilato la parte riferita all'inserimento dei dati personali, cliccando nuovamente avanti si va a Compila le sezioni. Vedete qui che c'è un quadro delle sezioni che vanno compilate. Oggi faremo vedere come si compila la parte riferita alla richiesta dei titoli di accesso. Si clicca su Azioni disponibili, vedete questo campo è obbligatorio perché altrimenti non si può partecipare. Cliccando arriviamo in una sezione dove dobbiamo scegliere la classe di concorso. Per esempio, scegliamo la classe di concorso di italiano e storia per quanto riguarda il primo grado, si sceglie questa classe di concorso e si fa Aggiungi. Vedrete che è aggiunta qui la classe di concorso per cui si chiede l'accesso. Poi c'è il titolo, la tipologia di accesso. Sapete tutti che si può accedere in due modi. O con la laurea, dunque solo il titolo di laurea idoneo per accedere alla classe di concorso 022 più i 24 CFU. O se una persona è abilitata, basta che clicca sul titolo di abilitazione senza 24 CFU. Prendiamo il caso, vedete, le due opzioni sono o titolo di studio, dunque solo la laurea, o abilitazione specifica che non richiede, se nel caso si dovesse cliccare abilitazione specifica, non richiede i 24 CFU. Vediamo il caso più complesso, quello di chi entra solo col titolo di laurea. Dunque, titolo di studio, ecco che si apre una tendina che ci dà la possibilità di inserire il tipo di titolo di studio. Allora, si sceglie il titolo che uno possiede tra diploma accademico di secondo livello, eccetera, eccetera, oppure diploma accademico di vecchio ordinamento, oppure di nuovo ordinamento magistrale, nuovo ordinamento specialistico, oppure vecchio ordinamento. Questi ultimi tre sono le lauree. Immaginiamo, per esempio, una laurea di vecchio ordinamento. Si clicca, ecco, e viene laurea di vecchio ordinamento. A questo punto si specifica che tipo di laurea. Per esempio, per accedere, una laurea in lettere, ovviamente. Allora, si sceglie, si va a selezionare laurea in lingua e cultura, laurea in lettere, ecco, si clicca, e viene fuori la laurea in lettere. La votazione, per esempio, immaginiamo che il candidato abbia preso 110 su una base di voto di 110. Dunque, avrà in centesimi la conversione diretta. La conversione diretta, per cui, poi, metterà, se clicca qui, chiedo di avvalermi del punteggio di 1,5 come indicato nella legato C, avrà solo 1,5. Dunque, chi invece ha 110 su 110 si sconsiglia di cliccare su questa richiesta. Data di conseguimento si fa, si indica quando si è conseguita. Per esempio, immaginiamo che una laurea è conseguita negli anni 90, ecco, perciò 1992, quando? In giugno e quando? Il 18 di giugno. Ecco qui che nasce la data di conseguimento. Il luogo, ecco, il luogo è l'università. Basta scegliere l'università, per esempio, l'università di Catania. Si sceglie l'università di Catania, si inserisce, e qui si è già compilato. Poi si può dichiarare o meno di avere i 24 CFU, perché con il titolo di laurea si deve dichiarare il possesso dei 24 CFU, e a questo punto si può salvare. Facendo salva, ecco che diventa verde questa area, e dunque significa che il campo pubblicatorio è stato, diciamo così, compilato, e la domanda sta per essere compilata in tutte le sue parti. Per le altre sezioni vi invitiamo a seguire il nostro canale YouTube e il nostro sito www.technicalescuola.it perché seguiranno altri video per farvi vedere le altre sezioni da compilare. Un saluto a tutti i nostri lettori.